Quando ho iniziato a fare psicoterapia, alla fine degli anni 70, mi sono subito interessato all'impiego quotidiano dell'assertività, cioè come imparare a non subire e a non aggredire gli altri. Amando molto i cani, ho scritto un libro sull'argomento, in cui il protagonista della storia è un cane. L'idea è nata dalla lettura della vera storia di Berry, un gigantesco San Bernardo vissuto nel 1800, che ha salvato 40 persone da morte sicura in montagna. Per anni hanno scritto delle sue gesta e gli hanno anche dedicato un monumento. Da qui ho immaginato che un suo discendente, sempre chiamato Berry, potesse essere considerato un maestro di altruismo ed equilibrio. La storia inizia quando quattro cani, con diverse personalità insoddisfatti del loro modo di essere e di agire, si rivolgono al saggio San Bernardo, sperando che possa aiutarli a cambiare. Berry gradualmente insegnerà loro a controllare la propria aggressività e la propria impulsività, ad accettare i rifiuti, ad ascoltare gli altri, a non crearsi inutili aspettative e a migliorare la propria autostima. I quattro protagonisti, con Berry al loro fianco, affronteranno una serie di fantastiche avventure alla ricerca di se stessi e alla riscoperta della vita. Al termine del percorso avranno imparato a far emergere i propri aspetti positivi, a controllare quelli negativi e a scegliere il comportamento assertivo per vivere più sereni con se stessi e di conseguenza con gli altri. Non è difficile immaginare come i quattro protagonisti rispecchino gli stili comportamentali di un gran numero di persone. Le strategie che Berry insegna quindi possono essere utili a tutti per potersi gestire al meglio in molte situazioni quotidiane. Vi auguro una buona e divertente lettura. Grazie a tutti.